Via all'asfaltatura del Putto. Operazioni eseguite durante la notte per limitare i disagi al traffico. Piccolo stop per il ponte del primo novembre, poi i lavori riprenderanno dalla sera di lunedì 4. Conclusione prevista per venerdì 8. Aperto dunque l'ennesimo cantiere attivo in città dopo i lavori delle fognature, quello attivo in stazione da ormai un anno. Ed è stata proprio la riqualificazione della ferrovia al centro dell'incontro a Roma tra il sindaco Conte e il ministro dell'infrastruttura e dei trasporti Matteo Salvini. Ho chiesto determinazione nel recuperare anche il tempo perduto e devo dire che da parte di RFI ho trovato grande disponibilità e grande professionalità. Ringrazio sia il ministro che la struttura di RFI perché sono stati tempestivi nel risolvere i problemi che evidentemente hanno avuto in questi due anni con l'impresa paltatrice. Problemi che sono stati risolti a partire dal 4 novembre inizieranno i lavori di fondazione attraverso i micropali. Quindi abbiamo riscritto un nuovo cronoprogramma che di fatto ci consente di presentarci per un'opportunità importante per tutto il territorio come le Olimpiadi Milano-Cortina con una stazione adeguata. Obiettivo di fine lavori è inizio 2026 ma già nel 2025 si potrà usufruire di sezioni riqualificate compreso il quartiere di San Zeno per cui è previsto uno stanziamento di 4 milioni di investimenti. Progetti inseriti nel programma dell'amministrazione Conte che punta a rendere la città un polo universitario. Sono circa 20 milioni gli investimenti che abbiamo predisposto in ambito universitario. Il nostro obiettivo con l'Università di Padova e di Venezia è quello di raddoppiare la comunità universitaria presente in città arrivando a circa 5.500-6.000 studenti. Il Comune sta investendo ma per far sì che Treviso diventi città universitarie salve adeguare i servizi che può offrire dagli spazi per lo studio agli alloggi. Stiamo lavorando con l'Università di Padova per creare ulteriori spazi per la didattica, spazi rigenerati, riqualificati, nuovi ed accoglienti con caratteristiche diverse rispetto a Venezia. Quindi un'università diffusa che vede certamente la cittadella sanitaria ma anche altri luoghi che stiamo predisponendo proprio insieme alle università mentre Alturazza sarà la casa dell'Università Ca' Fosca. È una città che crede nei giovani, è una città che investe sull'università. Grazie.